Mi sentite? Ecco, lo dicevo prima appunto, infatti stiamo facendo Dall'Amarone, proprio mesi fa c'è stato un libro di un sociologo americano che sosteneva come noi da sempre, da piccoli siamo educati a fare le cose fatte bene, invece si è scoperto che negli Stati Uniti e in Giappone addirittura ci sono delle aziende che assumono delle persone che devono sbagliare, perché sbagliando riusciamo a trovare delle cose nuove, quindi agganciandoci un po' a questo tema abbiamo visto effettivamente come nel mondo ci sono degli errori voluti o molto spesso non voluti proprio, il classico esempio è la penicillina che nasce per errore quindi direi che quella è sicuramente la cosa più importante, diciamo che la penicillina ci salva la vita, l'Amarone ce la migliora, alcuni dicono che aiuti anche a salvarci la vita, però insomma quello diciamo un po' soprattutto un momento di moda e di vini di meditazione che poi è un tema che io trovo abbastanza delicato, perché cos'è un vino da meditazione? Cioè se uno non medita non è che il vino ti aiuta a meditare, quindi solitamente per vino di meditazione si intende quel vino che si può bere da solo, però noi nelle nostre serate, poi mi faccio una presentazione prima che stiamo parlando, io sono Danilo Della Mura come scritto, sono giornalista per il Nikkei, è stata giapponese, corrispondente e direttore di Stile Italia TV, con altri giornalisti e amici abbiamo creato la confraternità della Marone nel 2009 quando abbiamo visto che questo grande vino era molto famoso, nel senso che chiunque si incontra per strada, che abbia un minimo di conoscenza del vino, ah l'Amarone è grande vino, famoso ma poco conosciuto, si no sto facendo soltanto un prologo, poi possiamo recuperare, pochi sanno da dove arriva l'Amarone, c'è il terroir dell'Amarone, Barolo sanno tutti quanti che è Pemontese, il Chianti sanno che è anche il Toscano e talmente il Valpolicella Veneto così, ma per esempio per fare un esempio per farci capire come poi l'Amarone è un vino che è esploso recentemente, cioè l'Amarone prima degli anni 50 non esisteva, fino al 1979, metà degli anni 80 non si chiamava Amarone ma si chiamava Reciotto, cioè Amarone Reciotto, perché poi spiegheramo perché. Finalmente è arrivato ad avere il suo nome Amarone. La cosa curiosa per dire come questo vino per sua sfortuna è diventato famoso troppo tardi, non so se conoscete, credo che conoscete tutti quanti il famoso film Il Silenzio degli Innocenti, dove c'è questa famosa scena in cui Hannibal Lector racconta di questa scena macabra di cui lui mangia, non so se il cervello o il fegato del fegato, con del buon Chianti. La cosa buffa è che nel romanzo l'autore aveva scritto con un buon Amarone, ma i produttori di Hollywood, che chiaramente guardavano anche Il Ritorno, hanno cambiato nel film, hanno messo Chianti a posto dell'Amarone, perché in quel periodo quando è uscito il film, l'Amarone non era ancora famoso, quindi se quel film fosse stato fatto adesso ci sarebbe la ripresa, esatto, quindi se avete la fortuna o trovate questo libro anche su internet, vedrete questa frase in cui lui cita l'Amarone e tra l'altro adesso lanceremo su internet questo canale che si chiama Amarone.tv dove c'erano tutta una serie di video degustazioni dei produttori e recentemente abbiamo scoperto un ristorante nella zona est della Valpolicella dove ci ha fatto, proprio per riconciliarci con questo film, un fegato non all'Amarone ma al recioto. Quindi ha fatto questa ricetta appositamente dedicata al silenzio di innocenti. Non esisteva. No, non esisteva. Allora, l'Amarone, entriamo un po' nella... no, 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 ma lo spieghiamo brevemente. Allora, nella storia del vino, il vino fino a 1600 era una cosa imbevibile perché non c'erano tutte le procedure ed era essenzialmente dolce. Infatti noi ancora adesso associamo il vino dolce alle feste, a parte perché abbiamo da quando siamo piccoli questa attitudine più al dolce che l'amaro o al secco, ma perché nella tradizione gli antichi romani e gli antichi greci per camuffare i difetti del vino ci aggiungevano del miele. Quindi è sempre stato associato il vino delle feste come il vino dolce. Poi c'era il vino da sostentamento, quello che si beveva per andare nei campi a zappare. Infatti c'è questa... quando si parla con alcuni colleghi del nord Europa dicono sì perché voi per zappare dovete bere il vino. Noi bevevamo la birra quindi producevamo di più e poi se volete la birra si poteva anacquare. Effettivamente al nord quando c'erano due tipi di birra che poi adesso sono diventate in commercio, quella più anacquata per chi doveva diciamo pregare e quella più forte meno anacquata per chi doveva andare nei campi. Quindi questo è stato un po' da sempre. La Valpolicella, che ricordo è quella zona che è a nord di Verona e a est del lago di Garda, aveva due vini. Il Valpolicella e il Recioto. A Valpolicella, Valpolicelle, la valle delle mille cantine perché era già famosa dai romani, non a caso giù a 100 metri sul Garda, abbiamo le terme di Catullo. Era la Miami dei romani, andavano lì, facevano le terme e bevevano questo vino. Quello che dicevo prima, i romani che di vino se ne intendevano perché le facevano sia nella Magna Grecia sia nel Lazio sia nella Toscana, il Piemonte come vino arriva con l'Unità d'Italia, prima c'era poco e niente di vino, si resero conto che lì c'erano tante tipologie di uva, ma nessuna poteva andare bene, tipo l'Aglianico, tipo per esempio il Sangiovese, poteva sostenere un vino. Allora trovarono tre uva. La Corvina, che dà la sostanza, la potenza, la rondinella che dà colore, perché la Corvina dava potenza ma non aveva colore, e la Molinara che dava acidità. Ecco perché dicevo prima che l'Amarone è un vino che in questa sede ci sta bene perché effettivamente è un po' una cosa alchemica, prendo delle sostanze, le metto insieme, c'erano la fortuna di avere l'unica essenza e via. E di qui andò la storia, appunto, Valpolicella, vino secco e Recioto, vino dolce. Allora innanzitutto Recioto perché? Deriva dal termine Recia, orecchia, in Veneto, perché i grappoli che si prestano meglio per i vini dolci sono quelli corti e larghi, come se in profilo sembra vedere un piccolo Mickey Mouse, quindi ha due grandi orecchie, quindi per loro il Recioto era il vino che si faceva con il grappolo che aveva la Recia, le Rece, da lì Recioto. Quindi qui andavano tranquillamente, Valpolicella da una parte, Recioto dall'altro. Faccio una piccola incursione tecnica di enologia. Il vino si fa con l'uva, i zuccheri dell'uva vengono trasformati nei lieviti in alcol. Se io però interrompo questa fermentazione, interrompo la trasformazione degli zuccheri e quindi ho quelli che si chiamano zuccheri residui. Quindi per fare un vino dolce, non viene, lascio la botte e viene fuori il vino dolce, devo fermare i lieviti, cioè ammazzare i lieviti, come si fa normalmente. O con lo sbalzo di temperatura, al sud si prende la botte e la si porta fuori, quindi prendete col caldo e si ammazza, al nord si porta fuori e il freddo lo ammazza. Quindi diciamo, i lieviti lavorano entro una fascia di temperatura ben precisa. Al di sopra e al di sotto muoiono e quindi ho il vino dolce. Poi ci sono i vini fortificati, tipo il porto, dove si ammazzano con l'aggiunta d'alcol, cioè l'alcol ammazza il lievito. Quindi che cosa succedeva? Che il contadino per avere il reciotto doveva stare lì, non col cronometro ma con il calendario alla mano e si portava fuori la botte. Infatti, non a caso, noi abbiamo in Italia il vino santo e il vino santo, vino santo del Trentino e vino santo della Toscana, dove questo santo era legato al fatto che un dato giorno del calendario bisogna portare fuori la botte per farla diventare, fermare la fermentazione. Negli anni 50 cominciano a uscire fuori queste botti. La leggenda vuole che un contadino, probabilmente per festeggiare un battesimo, un compleanno o qualcosa d'importante, va in cantina, prende la botte, pensando che sia reciotto, mette dentro il mestolone e dice ma le amaro, le amaron, e gli è venuto fuori un vino amaro. Allora, questa è la leggenda. Ci sono due produttori che si sono appropriati la paternità ma solo loro due dicono che l'hanno fatto per volontà. Ma il problema qual è? È che se una persona fa un errore, è un errore. Per diventare importante vuol dire che almeno 20-30 cantine improvvisamente si trovano con queste botti amare. Da una ricerca che abbiamo fatto noi, però è una ricerca così proprio cascina per cascina, cosa può essere successo? L'amarone appare negli anni 50. Il Veneto è sempre stato una terra dove ha dato tanti soldati per andare in guerra. Quindi probabilmente nel 1945 gli uomini erano in guerra, le donne dovevano mangiare, chi si andava a pensare di fermare il reciotto? Quindi probabilmente tutti questi reciotti furono dimenticati, al ritorno, probabilmente per festeggiare il ritorno della guerra, si sono scoperti con l'amarone. C'è da dire che l'amarone inizialmente, ancora adesso alcuni produttori lo vedono come una sciagura, nel senso che il nostro è Valpolicella e il nostro è il reciotto. L'amarone lo considero come il figlio illegittimo. Tant'è vero che cosa unica al mondo, non esiste il consorzio dell'amarone, esiste il consorzio tutela vini Valpolicella. C'è l'unico vino, non esiste il vino al mondo, il Bordeaux è il consorzio del Bordeaux, il Brunello è il consorzio del Brunello, l'amarone ha un consorzio ma non col suo nome, per dirla come in Veneto la pensano. C'è da dire un'altra cosa, che in Veneto per esempio il disciplinare prevede che per ogni ettaro, io non posso fare di un ettaro tutto amarone, devo fare 50% Valpolicella e 50% amarone, proprio perché il loro vino è il Valpolicella, quindi loro tutenevano il Valpolicella per evitare che la gente si messa a fare tutto amarone e si perda la tradizione. Dicevo, quindi l'amarone nasce da questo strano errore che permette a un vino dolce di avere improvvisamente, diventare secco e arrivare a gradazioni alcoliche che sfiorano i 18 gradi. Questo qui, visto l'orario, ho preso uno che è sui 14 gradi e mezzo, però è comunque importante. Ma la cosa importante di questo vino è che nonostante ci sono questi amaroni da 17,5-18 gradi, non hanno assolutamente la testa. Io ho fatto la prova, ci sono molte persone che bevono un bicchiere di bianco e cominci a ingerire la testa, due bicchieri di amarone no. Perché? Per quel discorso dicevamo prima, c'è una struttura in partenza delle uve per cui abbiamo struttura, colore ovviamente, tannini, mineralità e acidità. Quindi è un vino molto ben bilanciato. Per dire un'altra cosa, perché se voi parlate con delle persone che sono proprio critici del vino dicono ma un vino così è un vino pasticciato, perché poi comunque l'amarone ha un suo residuo zuccherino, non è un vino totalmente secco, perché il disciplinare prevede che si possa fare dai 5 ai 7 grammi zucchero per litro. E tutti quanti i puristi lo criticano, però c'è un altro grandissimo vino famoso che è lo champagne che è manipolato e non solo ha lo zucchero, glielo aggiungono. Quindi a questo punto diciamo che l'amarone dopo questo, tra gli anni 80 e gli anni 90, finalmente si è conquistata la sua fetta di mercato. L'obiettivo di questo incontro, che poi adesso per chi vuole ricordarsi i profumi abbiamo delle essenze, se no potete sentire direttamente nel bicchiere, e il grande spettro di profumi che si ha in questo vino, giovane. Allora, noi abbiamo al numero 1, in realtà, abbiamo il Ripasso, non ancora l'amarone. Il Ripasso è un altro vino molto particolare della Valpolicella. che a me piace di più dal punto di vista filosofico dell'amarone, perché è proprio il vino del contadino. Cioè, cosa fanno? In Valpolicella a settembre-ottobre si va a vendemmiare. Le uve per l'Valpolicella vanno direttamente in cantina, si pigiano e vanno nei silos d'acciaio. Le uve per il reciotto e l'amarone vanno nei fruttai, dove per minimo tre mesi appassiscono. Quindi, normalmente, si comincia a pigiare da dicembre e gennaio. Questa cosa, tra gli altri aspetti, è un'ulteriore incognita per il produttore. Perché, se durante l'inverno si ha umidità, si ha pioggia, l'uva marcisce, fa la muffa, e quindi, mentre gli altri produttori, una volta vendemmiati, hanno detto, ok, scampato la grandina, scappato la siccità, vado a dormire, i produttori di ammarone e reciotto hanno ancora tre mesi di patema d'animo. Quindi, a gennaio si pressa, e voi probabilmente immaginate proprio l'uva, non proprio passa, ma disidratata, quindi bella concentrata, una volta pigiata, ci sono queste bucce che profumano ancora. E perché buttarle via? Allora, hanno avuto l'idea. Io prendo il Valpolicella, io lo butto sopra, come si fa con la bustina del te, la seconda girata del bustino del te, la rifaccio, e mi viene fuori un ammarone un po' più scarico. Però, un Valpolicella che prende questi aromi dell'amarone, soprattutto del ripasso. Quindi, ve l'ho messo al numero uno, per farvi capire già come questo vino, che tenete conto, è un vino che normalmente in enoteca ha dei prezzi che sono intorno al 10 euro, qualcosa anche meno. Quindi, un vino che tranquillamente da tutti i giorni, già soltanto per essere passato su delle bucce già spremute, comincia ad avere dei suoi profumi. Siamo di fronte a un Valpolicella, c'è un ripasso, perdon, scusate, metto gli occhiali, questo qui è un 2009, quindi per un vino di questa zona è proprio giovanissimo, e ha la capacità di avere ancora delle note fruttate e floreali, già tendenti un po' al sovrammaturo, e a primi accenni di confettura, non siamo ancora al sottospirito, ciliegia, qui, in questo vino qui, il suo è il ciliegia, scusate che io mi sono dimenticato i miei bicchieri, quindi non posso partecipare. Ci sono dei bicchieri vuoti? No, ci sono già piedi, ok, poi me lo faccio io, ok, ma li prendo qui, perché così almeno con questo io con l'uno, perfetto, e l'altro è il due, vabbè me lo verso un po' dopo su quella lì, qui non abbiamo una ciliegia sotto spirito, qui siamo proprio a una ciliegia, sì, quella lì sì, questa qui è una ciliegia, come vedete, tra l'altro, lo vedremo soprattutto poi con il ricciotto, in fondo, perché avremo ripasso, Amarone e il ricciotto, pur essendoci qui chiaramente tracce, questo qui è il ricciotto, no, questo qui è l'uno, questo qua, ripasso? Sì, 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 certo, il primo sì, il primo potete tranquillamente, no, 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 questo qui è una conversazione, questa è una conversazione, è un incontro amichevole, che adesso dicevo appunto, diciamo a Valentina, il prossimo anno facciamo anche la sera, facciamo, anzi facciamo, potremmo fare un intermezzo di ex-sans del vino. Ecco, come vedete, è un vino che comunque ha una sudolcezza, però la cosa importante è che ha ancora i tannini, i tannini li conoscete, da quell'effetto caco-acerbo che avete in bocca e una buona mineralità che è quel pizzicore che sentite sulla punta della lingua, un po' di sale. Allora, premetto, come dicevo prima, stiamo su un prodotto, cioè una tipologia di prodotto molto da peso medio, peso mosca, quindi non ci aspettiamo grandi fulmini e tuoni, proprio perché per l'ora. Ci sono degli amaroni che danno delle sensazioni molto intense da dopo sera, certo dopo cena, scusate, e sono in grado di sostituire tranquillamente un superalcolico, quello dicevamo prima, da meditazione. tenete conto che noi l'anno scorso abbiamo fatto a Milano e se voi volete partecipare quest'anno lo rifaremo, a Milano una degustazione di 32 amaroni e abbiamo fatto un test che normalmente nessuna guida si fa perché non c'è il tempo di fare, che è la tenuta del vino a bottiglia aperta, cioè simulando quello che potreste fare voi a casa. Apro una bottiglia, non la bevo tutta, la tappo col sughero, quindi neanche quelli sotto vuoto e a 24 ore, 12 ore di distanza la vado a riaprire. L'altro giorno mi sono trovato di fronte a un vino che posso tranquillamente dire il nome Romano dal Forno, uno dei top della Marona, che dopo sette giorni di bottiglia non solo non è peggiorato ma continua ad evolvere perché è di una tenuta proprio perché ha questa grande tenuta gradazione alcolica che gli permette di mantenersi. infatti voi se non sapete non so se sapete che tutti i vini tipo il Porto, il Marsala sono vini che nascono con l'aggiunta d'alcol proprio perché gli inglesi dovendo trasportare per lunghi periodi in nave gli serviva da conservare. Quindi la grande gradazione alcolica naturale della Marona fa sì che ha una grande conservazione. Molto spesso ci si domanda ci si sente dire ma la Marona è un vino da grande o breve longevità? E io rispondo dipende. Cioè il Barolo o il Brunello sono vini che hanno una massa di tannini come un po' enorme che necessitano un grande invecchiamento in bottiglia in botte e un affinamento in bottiglia. L'Amarone invece bevuti giovani sono proprio dei pugni di tannino in bocca proprio sono delle cose che ti si impasta la bocca quasi impossibile da bere da solo. L'Amarone invece ha questa caratteristica che avendo questa componente fruttata può essere bevuto appena messo in commercio cioè appena il produttore lo mette in commercio e ha una caratteristica molto profumata molto aromatica ma può andare tranquillamente in alcuni casi anche fino a 20 anni dove questa parte aromatica si trasforma in in quelli che diciamo qua aromete eterei il più famoso è il sembra strano dire ma lo smalto per unghie cioè proprio c'è questo profumo di smalto d'unghie in alcuni casi ma il good si trova anche il good run anche se il good run che sarebbe un po' l'asfalto se volete poi c'è anche il good run è tipico più dei vini bianchi francesi il good run lo si trova per esempio nel come si chiama nel sotterne nel sotterne avete questa cioè il sotterne se l'avete assaggiato se no assaggiato sembra proprio quasi di entrare dentro un negozio di vernici perché proprio a questi ma piacevoli che ha questi profumi molto eteri molto smaltati e anche lui deriva da un processo di appassimento delle uve in quel caso lì viene ricercata proprio la muffa la muffa monopile la botrytis cosa che invece nella marrone nel reciotto si vuole evitare ecco quindi questo qui per quanto gli avarda come sentite il ripasso è un ottimo vino da bere a pranzo con merenda da aperitivo in lontananza proprio cercandolo sentiamo qualcosa che poi troveremo nella marrone che è qualcosa di cioccolatoso leggermente un po' cioccolatoso ma qui leggermente nella marrone lo troveremo di più se ci sono delle domande nel frattempo perché sto parlando soltanto io vado avanti ok spero di essere allora questo per quanto riguarda il ripasso quando voi poi volete passiamo alla alla marrone vero e proprio che è il numero due due allora il goccino d'acqua è utile quando si passa da vini completamente diversi questo qui è in progressione quindi accresce quello che avete prima va a sovrapporsi qui sentiamo un salto la ciliegia qui diventa proprio quasi quella un po' sotto spirito che questo qui è leggermente ma non questo qui è un 2000 e aspetti che ho incrociato le bottiglie questo è un 2008 giovane per il semplice per il semplice motivo ripeto questa qui è un incontro molto molto informale nel senso che l'orario per la degustazione non è giusto i bicchieri non sono quelli giusti la temperatura di servizio siamo riusciti a tenerla abbastanza nell'ordine ecco una cosa importante soprattutto per la marrone ma anche per gli altri vini rossi sui vini bianchi si fa più attenzione alla temperatura di servizio sui vini rossi c'è ancora questa vecchia leggenda della temperatura ambiente io non so a casa mia io ogni tanto ho i 22 gradi nei ristoranti un po' follati li trovo anche a 24 il vino massimo cioè proprio la temperatura massima per un barolo invecchiato importante è di 22 gradi ma proprio è un'eccezione normalmente diciamo che il 20% dei vini rossi 30% sui 20 gradi un amarone si apprezza secondo me molto bene sui 18 19 gradi perché è questo la temperatura di servizio cosa che succede anche credo nei profumi nel senso che se un profumo è troppo caldo accento delle notte e ammazza le altre nel vino oltre al discorso del profumo abbiamo anche la parte gustativa una temperatura troppo alta quindi calda accentua la sensazione alcolica e accentua la sensazione dolce viceversa una temperatura fredda smorza la parte dolce accentua la parte tanninica e smorza la parte alcolica infatti non è un caso che lo champagne e i vini dolci e la vodka soprattutto si servono freddi proprio per smorzare l'aspetto alcolico se voi qualche volta vi capita di lasciare una bottiglia di bollicine champagne francia corta prosecco aperta e la fate andare a temperatura ambienti vi renderete conto di quanto è dolce lo champagne lo champagne è dolcissimo a temperatura normale infatti si serve a temperatura fredda perché smorza la parte zuccherina esalta il perlage tra le altre cose il perlage per tanto tempo è stato il fattore principale per valutare uno champagne adesso si è cambiati infatti non c'è più la flutte ma c'è il tulipano che è più morbido ripeto nel riciotto è importante io molto spesso quando vado nel ristorante molto spesso non mi vergogno a chiedere il cestello del ghiaccio anche per la marona per portarlo a 18-20 gradi perché una marona a 24 gradi soprattutto se è abbastanza invecchiato porta a una grande gradazione alcolica un altro vino gastronomico italiano si ha fatto un'intervista e ha detto che lui a casa sua prende il vino e un'ora prima di consumarlo lo mette nel filo si allora può andar bene l'importante è che poi dopo a un certo punto lo riporti giù ci fa dire nel dubbio portate un vino troppo freddo perché se il vino è troppo freddo io posso scaldarlo con la mano oppure tenendolo lì sul tavolo quindi sicuramente meglio un vino più fresco che non caldo diciamo che in questo periodo basta lasciarlo fuori dal balcone anzi in questo periodo qui con la finestra appena aperta si porta a temperatura ecco una cosa invece da non fare ma per un motivo di sicurezza è le bollicine nel freezer li esplode allora diciamo che il vino messo così nel frigo per rinfrescare va bene un'ora prima va bene l'errore che fanno molti è quello di lasciare il vino a conservare ce lo prendo lo lascio lì o peggio ancora queste nuove cantinette che vanno molto di moda quelle cantinette quelle che si trovano che adesso ho visto che si vincono anche con i punti quelli della Samsung attenzione sono semplicemente dei frigo abbelliti rinfrescano possono avere la doppia temperatura ma non sono di conservazione perché la diciamo il freddo del frigorifero alla lunga danneggia il vino oltre che danneggiare l'etichetta oltre che danneggiare il sughero l'ideale del vino dico sempre ho avuto la grande fortuna di trovare anni fa un garage che nessuno voleva che era un quarto piano sotterraneo nessuno voleva perché c'era è scomodo tutti quanti volevano quello in alto e ho detto me lo dia la temperatura e umidità perfetta se voi avete la passione del vino quella è la cosa essenziale da fare sicuramente è giusta la cosa di portare il vino leggermente più fresco rispetto a quello che invece è la temperatura normale perché se io lo porto a tavola a 20 gradi ho un ambiente che mi mantiene a 20 gradi se non potendo diventare abbastanza alcolico se volete mentre vi degustate la morone vi posso anche parlare di altri miti miti legati al mondo del vino per esempio sapete perché la magnum è considerata la bottiglia più importante la magnum praticamente sono due bottiglie un litro e mezzo allora questo qui tutti quanti a Natale soprattutto si regala la magnum personalmente trovo che la magnum se sia in tanti va bene se no si rischia che poi dopo quel vino va male in realtà è premessa dal punto di vista enologico l'Italia veramente è giovanissima perché ripeto i grandi vini si sono fatti da il Barolo 1860 i francesi avevano già creato tutti i loro vini e quindi cosa abbiamo fatto la prima cosa più facile è quella di andare a copiare o quantomeno vedere i modelli che usavano i francesi la magnum o le geroboam quelle bottiglie da 12 litri da 8 litri 6 litri hanno senso sullo champagne sugli altri vini hanno poco senso perché perché lo champagne oltre al processo normale di vinificazione in acciaio viene poi messo in bottiglia nella bottiglia si aggiungono i lieviti dello zucchero si fa la prima fermentazione si fa la stappatura e poi si fa quello che si chiama liqueur d'espédition si aggiunge zucchero anzi questa liqueur è segreta alcuni dicono che ci mettono anche del cognac in realtà dovrebbe essere il rabocco cioè quello che va via e siccome questa liqueur per quanto possa essere uguale il lievito io non posso controllarlo quindi ci posso avere il lievito più giovane che mi mangia più zucchero e mi lo fa diventare più amaro e quello un po' meno quindi è molto facile che soprattutto sui grandi champagne due bottiglie dello stesso produttore della stessa annata siano diverse allora il motivo della Magno delle bottiglie più grandi è far sì che io sono sicuro che tutte le persone che sono a tavolo bevono lo stesso champagne infatti non è una moda cioè i 12 litri si prende se siamo in tante persone questo è un po' una cosa che mi piace raccontare sul perché sanno tutti quanti compro la Magno ma non sanno perché bene a questo punto possiamo passare al numero 3 che è il recioto allora il recioto in realtà come diciamo cronologia andrebbe bevuto prima dell'amarone perché sarebbe il papà cioè da dove nasce però se beviamo prima il recioto poi l'amarone ci risulta più amaro di quello che è allora lo mettiamo in fondo il recioto appunto dicevo allora se volete il primo dicevo è un 14 gradi e mezzo il primo numero uno è un 14 gradi di alcol il secondo è un 14 gradi e mezzo questo è un ormai gli occhiali è un 13 gradi di alcol svolto alcol svolto cioè di zuccheri svolte cioè gli zuccheri sono trasformati in alcol poi in realtà qui c'è almeno secondo me un 5-6% di zuccheri non svolti che sono quelli che poi danno questa dolcezza ecco la cosa importante nel recioto e in tutti i vini dolci tenete conto che il recioto è l'unico vino comunque l'unico grande vino dolce rosso naturale perché esiste il bracchetto ma è spumantizzato esiste il porto ma è un fortificato di vini dolci naturali almeno famosi poi magari che ne so in Grecia c'è qualcuno ma nessuno non lo conosco di quelli famosi che si possono trovare quindi tra i sotterni i passiti i vari vinsanti anche il vinsanto in teoria non è un rosso è un ambrato fondamentalmente perché non è proprio un rosso pieno ci sarebbe anche il reciotto di gambellara perché ecco un'altra cosa importante quando parlate con gli amici o gli amici parlano di reciotto sempre chiedere quale reciotto perché alcune volte mi dico ma io ho assaggiato un reciotto ma non era così era bianco perché esiste il reciotto di suave il reciotto di suave è bianco il reciotto di gambellara è sempre la zona è rosso però produzione è minima e poi c'è il reciotto dell'amarone quindi anche qui molto spesso capita di sentire persone che parlano di reciotto ma in realtà stanno parlando di due vini completamente diversi perché uno è fatto con uve bianche l'altro con uve rosse come dicevo la cosa importante soprattutto sui vini dolci importanti è che qui abbiamo una nota zuccherina la sentiamo però sentite che soprattutto questo è un reciotto giovane questo qui del 2010 ancora con la componente tannica sentite che ancora che serve proprio per andare a contrapporre se no avremmo l'effetto ciuppa ciuppa cioè lecca lecca dolce stucchevole infatti il segreto per giudicare segreto molto veloce per giudicare se un vino dolce è buono o no e vedere se subito dopo viene voglia di bere acqua se viene voglia di bere acqua vuol dire che un vino che è troppo zuccherino cioè è stato troppo zuccherato cioè se voi non sentite immediatamente la voglia di prendere un bicchiere cioè di pulirvi la bocca perché perché in questo caso è il tannino che pulisce la bocca il tannino ha questa funzione di pulizia di tutto per esempio quando vi prendete le carni molto unte i famosi brasati così il tannino è quello che vi pulisce la bocca insieme alle bollicine le bollicine serve per per il grasso infatti la salama c'è la parte proprio il grasso invece l'unto si pulisce col tannino sono i due pulitori della bocca quindi in questo caso ripeto siamo di fronte sempre a un peso medio come categoria di di reciotto una qualità medio alta siamo di fronte a un vino che almeno io personalmente non sento questa stucchevolezza come abbinare questi vini allora il primo è un vino il ripasso un vino ripeto anche con una pasta al sugo l'amarone tendenzialmente si beve da solo sì tendenzialmente per apprezzarne di più i suoi sapori i suoi gusti se no eventualmente con carni rossi braccia spiedi ottimo per chi non lo conosce la comando l'ha costato lo spezzatino di bue il piemontese favoloso è una cosa meravigliosa invece il reciotto può andar bene sia col cioccolato ovviamente anche per chi vuole usare con ieri sera l'abbiamo provato con il sigaro toscano e anche con dei leggeri erborinati non il rockford ma un gorgonzola quello al cucchiaio ci va benissimo volendo chi vuole fare un incontro interregionale anche con i famosi cantuccini attenzione che cantuccini non si pucciano dentro in toscana guardano malissimo se lo metti se li puccia dentro però molto bene ottimo per esempio anche per farlo per quando vi avanza un po' di reciotto per fare ottime le pere quelle al forno con sopra il reciotto sono una cosa meravigliosa come vi è sembrato sì allora non si trovava ancora adesso ancora adesso cioè o meglio adesso adesso si trova si vede lì no? certo sono qua guarda questo è il 3 questo è il 2 e questo è l'1 e no adesso il problema è che l'amarone è il reciotto essendo diventate molto famosi si trovano anche molto facilmente infatti il problema è che si trovano delle cose un po' anche un po' così perché ad esempio tipo l'ho visto la Lidl un amarone a 12 ore 90 sinceramente faccio fatica a a credere cioè tenete conto che di con un ettaro alla fine si fanno 40 ettolitri di amarone non di tanto perché c'è la resa dell'uva poi la riduzione dell'acqua alla fine per un ettaro vengono fuori 40 ettolitri quindi tenendo conto i costi che hanno un ettaro di terra su Valpolicella faccio fatica a credere che lo possono vendere a quel prezzo quindi sì con l'amarone è un po' quello che stiamo facendo sia come confraternita sia come associazione dei giornalisti internazionali cioè creare un network per arrivare come si fa in Francia con lo champagne in cui in Francia difficilmente si interette un francese dire ho bevuto uno champagne punto bevuto uno champagne marca annata cru e così via anche in questo caso è molto importante in un'ora e mezza già uno può individuare quali sono quei produttori della tipologia che gli piace di più ci sono alcuni produttori che sono i tradizionali in cui hanno molto meno a parte zuccherina ma grande mineralità che sono quei vini che vanno benissimo da abbinamento a tavola ci sono i vini un po' dolci gli amaroni un po' dolci i reciottiani che qualcuno chiama un po' ruffiani perché effettivamente lo sono che per esempio questo qui già appartiene una categoria di quelli che si bevono bene da soli se vi portavo per esempio che ne so un tedeschi che è un grandissimo produttore però dà il meglio di sé a tavola ha una mineralità che è una cosa meravigliosa questo è un vino che effettivamente è di ottima conversazione di ottima piacevolezza con l'amarone e il vino che uno può finito di mangiare se lo porta vicino al divano e continua a conversare come dicevo io dicevo prima il grande vantaggio è anche quello che ha una buona tenuta a bottiglia aperta e quindi rimane almeno fino al giorno dopo non ho mai visto un amarone che dure in meno di un giorno come siamo con i tempi sono lungo perché non vorrei annoiare sforare no il disciplinare ecco un'altra cosa importante dell'amarone è il disciplinare dell'amarone e del reciotto è uno tra i più permissivi che esista nel senso buono della parola nel senso che possiamo avere corvina rondinella molinara possiamo avere il corvinone alcuni tolgono la molinara adesso molti stanno mettendo l'oseletta la croatina quindi c'è la grande scelta no il discorso dello zucchero dipende o da una volontà del produttore o quelli tradizionali che non vogliono assolutamente intervenire dire io a questa data in bottiglio quello che ha fatto il lievito l'ha fatto infatti alcuni produttori mettono la percentuale di zucchero cosa che in bottiglia non è richiesta ma andrebbe messa per capire subito se è più o meno zuccherino e in questo caso loro controllano quanto zucchero lasciare gli altri invece dipende dal da quello che fanno i lieviti dall'annata dalla temperatura molto spesso è anche dalla volontà perché chiaramente questa è una grande strategia di marketing cioè tenendo conto che un amarone come tutti i vini vengono venduti nelle manifestazioni tipo il Vin Italy dove la gente degusta così come stiamo degustando noi avere un vino che piace immediatamente così senza mangiarci ha molte più possibilità di essere venduto ci sono alcuni che adesso stanno sempre nel disciplinare quindi sempre in maniera legale cercando di fare anche degli amaroni che possono andare appunto alcuni verso il sigaro alcuni verso il cioccolato quindi addirittura creare degli degli amaroni che possono andare verso una specifica come dire utilizzo utilizzo esatto adesso veramente stare dietro a tutta la produzione di amarone tutti i produttori che ci sono adesso è difficilissimo perché poi il grande boom che ha avuto come successo l'amarone ha portato a molte aziende che fino a dieci anni fa conferivano le uve o alla cantina sociale o ad altri che mettevano la propria etichetta a produrselo in casa a quindi a metterci la propria etichetta purtroppo stanno cominciando a venire fuori anche i primi casi di falsi di amarone perché purtroppo come tutte le cose tradizionali è difficile farlo anche perché è sempre stato consorzio la Valpolicella adesso cambiare ma certo io quello che più vedo il modello che vedo più vincente è quello dello champagne nel senso che loro hanno tutelato la champagne però la differenza per esempio ci sono alcuni produttori che dicono trovare un'amarone a 12 euro 90 la Lidl è sacrilegio io dico sì è vero però è sempre meglio che bere del tavernello cioè qual è la differenza come quando noi andiamo a prendere lo champagne all'esse lunga prendiamo un Don Perignon però ci sono i prodotti base poi andiamo su e ci sono cioè e creare la cultura dove veramente il produttore diventa riconoscibile perché poi un vino come questo è difficile da omologare vi andare state staccato tutti basta ok perfetto niente io spero che questo sperimento sia questa incursione enologica nel mondo dei profumi grazie grazie